da cui dipende ogni benedizione. Accogli l'umile preghiera che sale a te e fa che sorretti dall'intercessione di Maria Santissima possa il corpo musicale prendita. Ricevere le tue benedizioni e essere nella comunità segno di comunione, unità e fraternità. Possono compiere il loro servizio con gioia a beneficio di tutti coloro che fanno parte della nostra comunità di Valbretti. Per Cristo nostro Signore. Amo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. E adesso la preghiera del musicista. Preghiera del musicale. O Signore, che hai raccolto nell'armonia dell'universo tutte le voci del creato, gli offruggito delle uni e il corpiaggio del brusignolo, il cupo fragore del tono, il fresco e il mormorio delle sorgenti. Noi ti preghiamo affinché, sorretti nella tua fede e per amore di essa, possiamo elevare le voci dei nostri strumenti fino all'argento e i trompe, alle arpe dorate degli anzi del tuo paradiso. Benedici i grandi talenti della nostra arte. Benedici tutti coloro che nella musica elevano la mente e lo spirito. Unisci le loro voci affinché nello spazio infinito giungano fino a te. Concedi a noi il tuo aiuto per proseguire nel cammino che molti prima di noi hanno segnato sul pentagramma e fa che possiamo, attraverso i nostri strumenti, diffondere il tuo messaggio di fratellanza e di pace, esaltare la tua gloria, dare gioia e speranza ad ogni spirito umano nel solo, unico linguaggio diversale, la musica. Così sia. Così sia. Così sì. Grazie a tutti